Già da partire da Milano dovrò arrivare in Sicilia. Sei sulla prima corsa del Frecciorossa che parte da Torino e arriva a Reggio Calabria. Stiamo attraversando, abbiamo attraversato diamanti in comunità della costa, della Calabria, anche con paesaggi che prima appunto dal finissimo del Frecciorossa non potevano essere visti. Esatto, inediti. Cosa stai, ho visto che fotografavi anche prima, cosa stai provando? Ho sentito molto la mancanza del mare ovviamente vivendo in Lombardia e provenendo da un'isola si sente forte, ecco, questa assenza, quindi volevo un po' recuperare. Sì, è il primo viaggio che faccio interamente in treno, sono contenta, sono emozionata, penso che fosse anche arrivato il momento che questa tratta venisse, insomma, potesse favorire anche persone come noi che devono affrontare veramente un viaggio lungo. Di solito hai viaggiato in aereo? Di solito un viaggio in aereo per ovviamente motivi di praticità, però appunto ho voluto approfittarne, vedo dire che il servizio è soddisfacente. Ecco, ritieni che comunque anche in futuro potresti pensare comunque di tornare a percorso in treno? Sì, assolutamente. Da quanto tempo manchi da casa? Da febbraio, sono quattro mesi nel periodo, diciamo, un po' più critico, ho preferito rimanere al nord e scendere adesso. Osserverò un periodo di isolamento volontario e poi andrò a mare.